Ci troviamo a Caroniti, frazione del comune di Ioppolo, in una zona nella quale sarebbe dovuto sorgere una zona di stoccaggio per il conferimento dei rifiuti e che invece, come vedete alle mie spalle, è diventata drammaticamente una discarica a cielo aperto. Quando siamo arrivati questa mattina abbiamo trovato sul posto il sindaco di Ioppolo, Carmelo Mazza, che ci ha spiegato che nelle prossime ore un'azienda si occuperà di ripulire tutta questa zona. Avrebbero dovuto esserci solo materiali ingombranti e cartone, ma da qualche tempo l'area della zona del feudo del Pioppo è letteralmente invasa da ogni tipo di rifiuto e l'area è irrespirabile. L'impianto di stoccaggio era stato consegnato solo nel 2015, grazie ai 60.000 euro di fondi del Dipartimento Politico Ambientali della Regione Calabria. Dopo il caso sollevato nelle scorse ore, questa mattina il sindaco Carmelo Mazza si è recato sul posto, insieme al primo cittadino, anche responsabili di una ditta che si occuperanno di ripulire il terreno. Stiamo provvedendo nell'immediatezza a dare incarico alla ditta di smaltire e di portare a rifiuto differenziato questo che abbiamo trovato qui. Chi doveva controllare su questa discarica? Beh, nessuno, perché questa di fatto non è una discarica, questo centro di stoccaggio, chiamiamolo così perché è giusto chiamarlo così, doveva essere realizzato su un'altra area. Poi la passata amministrazione ha pensato di realizzarlo su questa area e è chiaro che avrà fatto un appalto con un contributo regionale, dove c'era la compartecipazione dell'amministrazione comunale. In sostanza questi soldi allora dove sono finiti e per che cosa? Sono finiti per quella costruzione che hanno fatto, vedete, che si vede paresemente. Non è chiaro dunque che avrebbe dovuto vigilare sull'impianto di stoccaggio, ma è noto che nelle aree circostanti ci si ammala facilmente di tumore. Il sospetto è che i rifiuti siano stati interrati anche nel sottosuolo e che ci troviamo di fronte all'ennesimo disastro ambientale. Lo stato del degrado è visibile fin anche dalle foto satellitari, ma finora nessuno se n'era accorto. Francesca Lagatta per la Cineus 24.